Buongiorno a tutti quanti voi, buon giovedì, giovedì 13 giugno 2024. Oggi entriamo nella seconda parte della settimana, la settimana che ci ha consegnato 129 nuovi sindaci e tre ballottaggi più altri quattro eurodeputati, ovvero la settimana che è iniziata con lo spoglio, con il resoconto delle elezioni, della nuova tornata elettorale fra europee e comunali. E se ne continuo a parlare ovviamente di questo argomento su tutti i giornali, sui siti internet, anche alcuni incontri che scopriremo fra poco, hanno portato anche un'analisi di un certo tipo, che riguarda proprio il voto nell'elezione europea e nei comuni. Ma non si parla solamente di questo, ovviamente si parla di altri fatti provenienti dall'Italia, dalla Calabria ma anche dal mondo, perché si parla ancora di politica, si continua a parlare di autonomia differenziata. Abbiamo avuto grandi tensioni attorno a questo tema e purtroppo la cronaca non manca mai, non mancano alcune notizie che arrivano dai territori, non mancano notizie di sanità, insomma ce n'è davvero tanto, quindi avremo tanti argomenti. Allora io direi di fare una rapida carrellata, davvero rapida, su quelli che sono gli argomenti che troviamo sulle prime pagine dei giornali, perché oggi abbiamo argomenti davvero che spaziano in tutto e per tutto. Allora andiamo a vedere velocemente Gazzetta del Sud. L'edizione di Cosenza apre con un tema di sicurezza per i cittadini, isola pedonale tra e raffica di multe. A Cosenza controlli interforze per garantire la sicurezza dei cittadini nell'area del museo all'aperto, il museo all'aperto e il MAB, che sono praticamente la zona pedonale, la zona di Corso Mazzini, per chi conosce la città. La decisione assunta in prefettura di vieto d'accesso a biciclette e monopattini, perché con i monopattini elettrici, con biciclette elettriche, sfrecciano praticamente in mezzo fra la gente all'interno dell'isola pedonale e possono creare grossi problemi, possono creare davvero seri problemi per l'incolumità dei cittadini, anche perché alcune volte non si va piano, diciamo la verità. Si sfreccia, si va a una velocità davvero pericolosa e non ci si rende conto, perché molto spesso sono anche ragazzi, anche adulti, non ci si rende conto che non è quello il modo di circolare con quei mezzi che sono utilissimi, ma devono essere utilizzati nella maniera giusta. Andiamo invece sulla prima pagina di Catanzaro, o meglio, l'edizione della Calabria Centrale, Catanzaro, Crotone, Vibo Valenza e la Mezzia Terme, perché troviamo qualcosa che riguarda invece il comune di Catanzaro, la fase del tagliando, clima teso in Forza Italia. Talerico conferma la sua posizione in maggioranza, l'abbiamo visto anche nel corso della nostra maratona elettorale, l'abbiamo ascoltato. Talerico che in realtà è con Forza Italia, anche se nell'interno del comune di Catanzaro, che è dell'amministrazione fiorita, quindi un'amministrazione capeggiata da un esponente del Partito Democratico, conferma però la sua posizione in maggioranza. La verifica porterà a rivedere gli equilibri della coalizione che regge l'amministrazione fiorita. E poi ancora abbiamo Reggio Calabria, gli atti all'antimafia, a San Batello, l'antistato degli Araniti, rendiamo conto al popolo e al Dio, l'inchiesta ducale, la politica fluida della cosca, il sostegno elettorale in base agli interessi, il meccanismo dei brogli. Ovviamente si parla ancora dell'inchiesta ducale, che lo ricordiamo, ha portato all'esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare, alcune in carcere, altre agli arresti domiciliari, altri sono obblighi di dimora e poi è la cosa che ha fatto sicuramente molto discutere, sono le indagini, ovvero gli indagati, solo nelle veste di indagati il sindaco Giuseppe Falcomatà e i consiglieri regionale Neri e comunale Sera, nelle veste appunto di indagati. Ma poi si parla del voto e non solo di questo presunto scambio elettorale politico mafioso, se ne parla sulla prima pagina del quotidiano di questi due argomenti, cioè del voto e di questa operazione. Lo scambio tra politica e mafia, la cosca chiese al senatore Bilardi di Forza Italia i voti per Sera del Partito Democratico, questo secondo quanto ricostruito ovviamente la tesi dell'accusa secondo le indagini e vedremo se sarà confermata poi in fase di dibattimento. E poi l'analisi del voto, attenzione a non sottovalutare il segnale forte dell'astensionismo, il punto del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università della Calabria, in democrazia bisogna cercare di condividere i progetti, costruire un futuro comune. E allora quali sono stati i punti cardine di questa analisi del voto? Ne parleremo poi anche nel nostro telegiornale dalle 14.30 come sempre, ma abbiamo avuto alcuni spunti forniti proprio da questa analisi del voto perché chi segue la politica, chi segue le elezioni già da tempo in Calabria sa bene che all'Università della Calabria c'è un incontro successivamente al voto che di fatto fa l'analisi, fa un resoconto di quello che è stato il voto dei calabresi e non solo. E allora si è parlato dell'analisi del voto, l'astensionismo, anche sia nel comunale sia nell'europea, soprattutto nell'europea, e ci sono alcuni particolari che anche vanno a indicare quella che è una tendenza, non solo relativa all'astensionismo, ma anche relativa alle preferenze. Non si vota più probabilmente il partito, ma si vota il singolo o la persona. Abbiamo rivolto queste domande al docente unica del Dipartimento di Scienze Politiche che di fatto cura questa analisi, il professor De Luca. Sentiamo. Forse di nuovo c'è ben poco, perché per esempio sull'astensionismo era una tendenza in atto e ovviamente è stata convalidata questa tendenza, ma ovviamente non soltanto in Calabria. mentre le altre cose che durano da tempo è il voto alla persona. Questa volta anche si sono affermati, dato che il voto di preferenza sempre favorisce questo voto personale, ovviamente nelle comunali, nelle regionali dove c'è vicinanza con i candidati, nelle europee che apparentemente non c'è vicinanza, tranne qualche candidato del territorio, ma in genere la maggior parte dei candidati sono distanti dagli elettori. Invece si è verificato che di molti voti di preferenza dati sull'opinione favorevole a questi candidati, soprattutto in alcuni partiti che hanno avuto anche molto successo grazie a questi candidati capaci di influenzare l'elettorato ottenendo molte consenze. Sì, in effetti la Calabria ha espresso dei candidati calabresi che sono stati eletti, ma che avevano un riconoscimento a livello nazionale, una riconoscibilità a livello nazionale, parlo di Tredico e di Lucano, mentre i candidati locali, diciamo non locali, della Calabria, hanno ottenuto voti di preferenza, ma gareggiando, essendo in competizione con candidati di altre regioni più grandi, cioè dove ci sono più votanti, per esempio la Campania e la Puglia, forse hanno avuto un risultato inferiore magari alle aspettative. Notoriamente alle comunali si vota in Calabria, nel Meridione, si vota addirittura più che nelle elezioni politiche, quindi quasi quasi potremmo dire che le elezioni comunali rivestono questa importanza maggiore rispetto a tutte le altre elezioni. Quindi le comunali hanno influenzato anche i dati sulla partecipazione elettorale dell'Europa, hanno trainato la partecipazione all'Europa. Facendo un'analisi più a fondo, se andassimo a vedere le schede bianche nulle delle elezioni europee nei comuni dove si è votato anche per le comunali, ci accorgeremmo che ci sono state molte schede bianche nulle, quindi l'elettore si è applicato al seggio, ha votato per le comunali, quello era il suo scopo, e magari ha votato una scheda bianca o nulla nelle elezioni europee. Però statisticamente l'affluenza è stata determinata anche dal traino delle europee, è stata trainata dal traino, è stata trainata dalle comunali. Questa è l'analisi del voto per quanto concerne ovviamente la Calabria e non solo, abbiamo sentito diverse riflessioni dall'astensione, comuni europee, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io volevo chiedere in questo momento, volevo cambiare argomento adesso, e volevo chiedere al nostro Enzo Leonetti, il nostro regista, che come sempre saluto e ringrazio per il suo preziosissimo lavoro, di mettermi a corrente se è presente un ospite, è già presente. Fra poco lo vado a presentare perché fino al prossimo 7 luglio il viadotto Fratelli Bandiera è chiuso. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della strada statale 107, quella che collega Cosenza con Crotone, la Sila con Cosenza, o se vogliamo poi su larga scala il Tirreno con lo Ionio. E allora a questo punto il viadotto Fratelli Bandiera cade, insomma, a ridosso, diciamo, non proprio nel comune di Celico, ma adesso mi correggerà il sindaco che vado subito a salutare. Allora Matteo Lettieri, buongiorno e benvenuto sindaco innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito. Dicevo, il viadotto Fratelli Bandiera adesso non credo sia proprio nel comune di Celico, nel territorio del comune di Celico, ma è comunque a ridosso e crea un problema alla circolazione di ovviamente tutte le persone che vogliono derecarsi da Cosenza a Crotone, da Cosenza in Sila. Ovviamente la chiusura è stata disposta da ANAS perché ci sono dei protocolli di sicurezza che vanno rispettati. Io le chiedo però, abbiamo saputo che c'è stato un incontro negli ultimi giorni per prendere dei provvedimenti e venire incontro ai cittadini. Di cosa si tratta sindaco? Sì, salve. Allora, innanzitutto il viadotto Fratelli Bandiera si trova nel comune di Rovito, però la chiusura con la previsione della strada alternativa, che è quella di via Magli, lasciava praticamente scoperti dal trasporto pubblico sia Celico che Rovito. Quindi il comune si è attivato per chiedere sia alla regione sia a Ferrovie della Calabria di istituire delle nuove corse. Devo dire che sono stati molto celeri in questo e diciamo che questo problema si è risolto perché hanno messo 12 nuove corse, quindi da questo punto di vista i nostri concittadini avranno ancora la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici. Una cosa molto importante perché molti sono pendolari, lavorano a Cosenza, quindi sarebbero rimasti completamente scoperti o sarebbero dovuti andare fino al comune di Spezzano, a circa 3-4 chilometri di distanza. Molti si recavano a piedi, quindi sarebbe stato molto gravosa come cosa. Quindi da questo punto di vista ringrazio l'assessore Emma Stein e il presidente Ernesto Ferraro per la disponibilità che hanno dato. Ricordiamo che Emma Stein è assessore dei trasporti della regione Calabria, Ernesto Ferraro invece è il presidente di Ferrovie della Calabria. C'è stato quindi questo intervento che adesso permetterà ai cittadini di essere un po' più tranquilli. I disagi ci sono ma purtroppo per forza di cose viene prima la sicurezza. Però insomma si ricerca come comuni, come amministrazione comunale, siete riusciti subito a cercare di quantomeno alleviare questi disagi? Assolutamente sì. Noi ovviamente chiederemo ad ANAS di attenersi al cronoprogramma, perché è fondamentale terminare i lavori entro il 7 luglio, perché i disagi come accennava sono davvero tanti. Sulle strade alternative abbiamo chiesto insieme ai sindaci di Zumpane e di Rovito, alla provincia, visto che c'è l'ASP 232, che è praticamente stato individuato anche come percorso alternativo oltre a Via Magli. Abbiamo chiesto alla provincia di intervenire con delle opere di pulitura. La Presidenta ha accettato di buon grado, quindi in queste ore la provincia provvederà. Ovviamente si deve pensare prima di tutto alla sicurezza, perché capisco i disagi, però giustamente dobbiamo pensare soprattutto a quello. ANAS ha iniziato i lavori, ha atteso per l'inizio dei lavori la chiusura delle scuole, perché anche in quel caso sarebbe stato ancora più gravoso. Ovviamente ci sono delle ricadute importanti sia sul turismo, sia sulle attività commerciali che sono presenti sui nostri territori, perché molte di queste attività non possono ricevere delle forniture, e quindi attenersi ai tempi sarà fondamentale. Siete sentinelle del territorio, siete anche tra l'altro l'interfaccia con i cittadini, perché i sindaci avete questo gravoso compito, cioè siete praticamente le istituzioni di prossimità, quelle a cui si rivolgono i cittadini. Quindi le lamentè, le sindaco, voi le prendete tutte quante voi, però proprio per questo, la vediamo sorridere infatti, proprio per questo credo sia stato importante, è fondamentale, ecco al di là del sorriso che adesso vedono anche i telespettatori, al di là di questo penso sia fondamentale chiarire che si tratta di un qualcosa per la sicurezza, ma un qualcosa che non compete al Comune. Il Comune, anzi, ha fatto questo passo in avanti, ha sollecitato la Regione, ha sollecitato anche la provincia nella pulitura di alcune sedi stradali, ferrovie alla Calabria per potenziare queste corse. E poi c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare, diciamo in questo caso siete sentinella, vigilerete su Anas, perché poi i lavori non competono al Comune, ma il 7 luglio può essere una data da rispettare, proprio per le ricadute economiche che questa chiusura può avere sul territorio. Esattamente, noi avremo sicuramente delle interlocuzioni con Anas, anche informali, e chiederemo appunto di rispettare questi tempi, perché in passato purtroppo ci sono state delle chiusure importanti anche nel territorio di Celico, ricordo il Ponte Canarino, ma ci sono state delle chiusure anche in prossimità del Comune di San Pietro, andando verso l'Asila, e hanno creato non pochi problemi queste chiusure, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista delle ricadute interni di turismo. è annominato il famoso Ponte di Celico, che spaventa alcune volte, soprattutto chi lo percorre, chi lo guarda, però insomma, nel momento in cui si vedono dei lavori, si vede un monitoraggio, c'è una sicurezza alla base. A che punto è la situazione? Ci sono dei lavori che sono partiti? Sì, allora, il viadotto Cannavino innanzitutto è molto controllato, visto che è stato impiantato un sistema di sicurezza che verifica ogni oscillazione, quindi il passaggio per allo meno viene monitorato, e quindi ci sono degli impianti semaforici che in caso di allerta si attivano immediatamente. Per quanto riguarda invece il Ponte, ci sono delle buone notizie, perché grazie anche all'interessamento dell'Assessorato dei Trasporti della Regione, il Ministero ha stanziato 52 milioni di Euro per fare un nuovo ponte a monte di quell'esistente. I disagi, fra l'altro, saranno ridotti perché prima verrà realizzato un nuovo ponte, dopodiché si procederà a far saltare in aria e quindi alla demolizione del vecchio ponte e la chiusura ci sarà soltanto nel momento del raccordo. Fra l'altro la 107, che è un'arteria importantissima perché ha delle grosse moli di traffico, sono venuti a conoscenza del fatto che anche altri viadotti saranno sistemati durante questi mesi e questi anni. Quindi siamo molto fiduciosi perché, vista l'importanza di questa strada, era necessario intervenire. Ecco, Sindaco, un'ultima considerazione. Lei ha detto, allora, c'è chi magari può anche dire ma bisogna fare questi lavori proprio in estate quando aumenta il traffico. Lei però ha sottolineato un aspetto fondamentale, è stato fatto a chiusura delle scuole, quindi anche la tempistica è stata scelta sotto questo punto di vista. Magari proprio la chiusura che si evita il mese di agosto è ancora meglio perché il mese di agosto è tradizionalmente il mese delle vacanze. Quindi, insomma, è stata scelta anche ad hoc questa data. Tornando ovviamente alla prima chiusura del fratello di Bandiera, stiamo parlando adesso. Sì, sì, del fratello di Bandiera. Sì, esattamente. Tengo a sottolineare ancora una volta che non c'entrano le amministrazioni comunali ma sono scelte di ANAS. Questa è una scelta che è stata dettata proprio dal fatto che con la chiusura delle scuole comunque ci sono meno pendolari se ci sono dei piccoli ritardi insomma vengono meglio accettati, diciamo. Però con le scuole ci sarebbe stato un traffico soprattutto con i mezzi pubblici ma anche con mezzi privati importante. Per quanto riguarda il turismo ovviamente il turista è un po' più disposto a percorrere un percorso alternativo rispetto magari a chi deve andare a lavorare, a chi deve andare a scuola e magari porta gravi ritardi per queste chiusure. Ovviamente meglio anticipare queste chiusure nel mese di luglio e non nel mese di agosto perché appunto il mese di agosto è il periodo in cui sia la Presila sia la Sila ricevono queste ondate di turisti per fortuna che speriamo di incrementare sempre più e quindi sarà importante avere una riapertura per quel periodo. Siamo sicuri che vigilerete. Grazie Sindaco per essere stato con noi e anche insomma un in bocca al lupo perché quando ci sono lavori pubblici in Calabria c'è sempre da fare l'in bocca al lupo. Ecco, come abbiamo capito adesso e come è giusto che si sappia non per responsabilità del Comune ma il Comune vigila, fornisce servizi alternativi e adesso bisogna attendere fiduciosi la fine di questi lavori. Grazie ancora Sindaco per essere stato con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, buon lavoro. Noi torniamo adesso a questo punto a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Abbiamo visto le notizie d'apertura perché sono molto diverse fra loro. Andiamo invece sulla prima pagina di Gazzetta del Sud questa edizione di Cosenza per andare a dare un'occhiata a quelle che sono un po' le altre notizie quelle che arrivano dai territori. Violenza sessuale, prete a giudizio davanti al giudice per l'udienza preliminare la denuncia, chiedo scusa, di una donna all'arma dei carabinieri e poi Corigliano Rossano a proposito di elezioni tutti gli eletti, le preferenze i vari eletti anche perché in questo caso non c'è da attendere un turno di ballottaggio del sindaco, lo vedete Flavio Stasi è stato riconfermato dunque all'interno della pagina di Gazzetta la composizione della nuova assemblea comunale ovviamente si va a attendere quelle che saranno poi le decisioni del sindaco sulla giunta e anche a Montaltufuco le preferenze ottenute dai candidati al consiglio ma poi cambierà la composizione del consiglio a secondo dell'esito del ballottaggio. successo intanto di nocita spezzano albanese Coppola ad Altomonte Cosenza telefonini in carcere chiusa l'inchiesta sono 50 le persone indagate alla procura telefonini usati dai detenuti nel carcere di Viavopilia la procura ha chiuso l'inchiesta notificando avvisi di garanzia a 50 persone rende crescita nelle iscrizioni al campus Unical entusiasta il rettore ieri abbiamo dato la notizia praticamente in diretta come è stata comunicata nel momento in cui è stata comunicata dell'aumento di quasi il 30% delle iscrizioni e poi nella Sibariti del raddoppio della 534 cancellato d'ufficio protesta di papasso parliamo dei lavori di ammodernamento della 106 il tratto che va da Cassano Ione quindi Sibari fino a Corigliano Rossano prevedeva anche il raddoppio della 534 così non è stato per così non è è stato cancellato d'ufficio la protesta del sindaco di Cassano Ione o Gianni Papasso a proposito di Sibariti di quell'area della Calabria un'area che attende e adesso parliamo un po' di sanità la costruzione del nuovo ospedale della Sibariti ma questo non vuol dire che nell'attesa non bisogna potenziare i nuovi ospedali allora parliamo di un altro ospedale che purtroppo è stato depotenziato nel corso del tempo nel corso degli ultimi anni parliamo dell'ospedale di Castrovillari che fornisce anche servizi di grande qualità ma spesso viene stato spogliato nel corso del tempo di personale quindi anche poi di reparti e ci sono in tal senso le lamentere da parte dei cittadini e a come dire a sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sta accadendo è il consigliere regionale di Castrovillari tra l'altro capogruppo ed i magistri e il presidente in consiglio regionale Ferdinando Laghi che parla proprio delle condizioni dell'ospedale di quelli che sono anche alcune eccellenze ma soprattutto i servizi che vengono tagliati e che possono comportare davvero un grave problema in alcuni casi all'utenza che è tutta la regione Calabria in altri casi soprattutto di quella parte di popolazione calabrese sentiamo Ferdinando Laghi Procedure per la prevenzione dell'invenzione ospedaliere per l'antibiotico resistenza e sono delle attività che soltanto l'ospedale di Castrovillari svolge brillantemente ormai da molti anni in tutta l'ASP di Cosens eppure invece di essere apprezzato per questo e supportato viene inspiegabilmente snobbato o addirittura penalizzato il caso della broncopneumologia che è in gravissima carenza di personale non da adesso a cui è stata tolta l'ambulatorio la gestione dell'ambulatorio che è stato diciamo affidato alla presenza di un medico esterno due volte a settimana per un totale di sei ore del tutto insufficiente stesso discorso per la gastroenterologia un solo medico inorganico è un altro che fa turni periodici impossibile programmare un lavoro prospettico degno di questo nome la neurologia è praticamente attualmente azzerata e la lista sarebbe lunga il problema è dunque quello che non si può da una parte tagliare anche la prospettiva dei posti letto promettendo l'apertura di reparti che ormai da 30 anni sappiamo benissimo che non saranno assolutamente aperti e che sono di fatto uno specchietto per le allodole ormai l'estate è iniziata la situazione da drammatica diventerà certamente catastrofica l'ASP intervenga in maniera seria determinata e fattiva altrimenti le popolazioni del centro nord Calabria saranno costrette a diciamo a rinunciare a una sanità pubblica degna di questo nome bene dobbiamo ancora dare un'occhiata alle notizie dei territori che arrivano e che troviamo sui giornali dobbiamo andare a conoscere in anticipazione il nostro telegiornale abbiamo altri approfondimenti abbiamo le notizie dei quotidiani nazionali soprattutto i siti internet che ci aggiornano su quanto sta accadendo in queste ore noi per adesso ci dobbiamo fermare per la nostra consueta pausa ritorniamo però fra pochissimo seconda parte di prima pagina sono le 14.01 e allora diamo un'occhiata a quelle che sono le notizie dei territori all'area centrale della Calabria Catanzaro inchiesta Scirocco gli enti saranno parti civili i top e flop fra gli aspiranti consiglieri ancora le elezioni i voti che arrivano dalle liste non solo i candidati a sindaco ci sono anche gli candidati consiglieri chi è andata bene chi è andata un po' meno bene fra gli aspiranti consiglieri a Vibo Valencia si va al ballottaggio Cosentino Romello ricordiamo Catanzaro abusi su minori in corte d'appello ridotta la condanna un ex parroco ridotta a 11 anni e 6 mesi la condanna accusate per un parroco di un paese la provincia di Catanzaro accusato di abusi su 15 minori la mezza termine in commissione passate al setaccio i conti municipali al vaglio il bilancio comunale prima che approdi in consiglio e poi Vibo Valencia l'assetto e gli affari del clan Lobianco in rinascita Scott i giudici descrivono il ruolo di Paolino Lobianco e i business in città andiamo velocemente adesso anche sulla prima pagina di Reggio Calabria abbiamo visto anche la notizia relativa all'inchiesta Ducale Turismo nello Stretto Reggio e Messina pacchetto unico intesa fra gli enti vedete gli aeroporti sul banco degli imputati Gioia Tauro faccia a faccia a Scarcella Russo anche qui abbiamo i postumi dell'elezione con il ballottaggio che si prospetta fra 15 giorni domenica 23 meno di 15 giorni a Cittanova la prima uscita pubblica intanto di Antico da sindaco i nuovi consigli comunali Opido Laurano di Borrella Scido Feroleto Sant'Alessio Stignano Martone Benestare e chi più ne ha più ne metta e poi ancora Palmi abbandono di rifiuti segnalate sette persone all'autorità giudiziaria e dalla polizia locale Tauria Nova la morte sulla canoa di Cristina Frazzica la versione dell'indagato la tragedia della 31enne ricercatrice è avvenuta nel mare di Posillipo ultima notizia che arriva dalla provincia di Reggio Calabria Sainato Gerace siamo all'Ocri l'ex vice sindaco papabile assessore a proposito di politica ancora e qui non si è votato ma ci sono ecco possiamo dire cambiamenti nella giunta avremo cambiamenti questa oggi pomeriggio nell'annunciare le anticipazioni del nostro Dele Giornale no non ci sono cambiamenti perché è tornata con noi Alessia Antonucci ciao Alessia buon pomeriggio come stai? io sto bene tu? tutto bene benissimo e allora che ci racconti oggi telegiornale o anche altre raccontaci anche altre notizie facciamo un po' di tutto facciamo un po' di tutto innanzitutto i titoli del Tg si parla parlavi prima della politica e c'è Occhiuto che deve decidere se fare rimpasto o meno al momento sto frenando sto dicendo beh parlo prima con i partiti e poi deciderò decisione saggio secondo me diamo un po' come andrà a finire però allo stesso tempo non molla la presa sull'avvertenza dell'Abramo Customer Care sai i lavoratori che sono in bilico perché non sanno fra qualche giorno scadrà la commessa a team quindi dovranno decidere e dovranno vedere che fine faranno queste sono più di mille se non ricordo male i lavoratori sparsi in tre province Crotone e Settingiano mi pare quindi provincia di Catanzaro e Montalto Fugo quindi provincia di Cosenza sono oltre mille questo vuol dire mille persone vuol dire anche mille famiglie e più pensate un po' alcune possono essere monoreddito in alcuni casi possono lavorare magari anche marito e moglie entrambi lì quindi insomma stiamo parlando comunque di una bomba sociale io ricordo un servizio che fece Gianluca Pasqua proprio sul lavoratore dell'Abramo e c'erano marito e moglie che lavoravano e appunto dicevano come dobbiamo continuare a vivere se perdiamo entrambi il posto di lavoro ed è una una delle tante diciamo ferite aperte di questa terra una terra quella calabrese che va a passo di lumaca rispetto alle altre regioni per quanto riguarda appunto l'economia è uno dei report della Banca d'Italia però l'occupazione sale a 11.000 posti nuovi di lavoro quindi questa è una bella notizia sperando che ci siano soprattutto giovani ma anche persone meno giovani ovviamente ce la curiamo ovviamente il lavoro è un diritto di tutti poi alla fine i giovani devono entrare nel mondo del lavoro magari ci entrano sempre più tardi quello è il problema poi si parla infatti del problema della natalità non ci si sposa non si fanno figli ma come si fa ad affrontare un qualcosa del genere se alle spalle non c'è una solidità economica questa è la domanda come si fa a mettere su famiglia con magari stipendi che sono irrisori e allora a questo punto è sempre il cane che si morde la coda parlavo dei giovani soprattutto perché uno dei problemi atavici di questa regione è proprio l'immigrazione l'immigrazione che vede partire molti molti giovani già dai tempi dell'università e che poi decidono di rimanere nella città dove hanno studiato oppure di spostarsi altrove molte volte all'estero quindi non è che sta stretta solamente la Calabria addirittura sta stretta l'Italia e quindi su questo bisogna ragionare giovani che anche all'Unical servizio di cui ti sei occupato tu hanno analizzato insieme a Studios e altro il voto delle amministrative e delle europee e prima di passarti la parola volevo dirti che l'altro giorno ho incontrato dei sindaci e mi dicevano che ci sono state diverse persone nei seggi dei loro comuni che hanno evitato proprio di prendere hanno rifiutato di prendere la scheda per le europee allora nel servizio l'abbiamo già anticipato poc'anzi abbiamo segnato il professore De Luca a parlare proprio del voto queste europee al voto anche nelle comunali facevo un esempio del comune di Corigliano Rossano e diceva nelle comunali adesso vado un po' a memoria c'erano 700 comunali 700 schede fra bianche e nulle nell'europea ce n'erano 7000 questo vuol dire che evidentemente altre 6300 persone hanno preso la scheda hanno votato per le comunali ma hanno annullato o messo scheda bianca nelle europee ieri sera poi dopo aver ascoltato proprio le parole del professor De Luca davo un'occhiata a Montalto Fugo per esempio perché è il primo comune che è venuto avanti dando un'occhiata ai dati elettorali del ministero dell'interno anche lì c'è una proporzione non è una diecima quasi meno di una dieci però insomma adesso non ricordo i dati precisi ma c'erano tipo 500-600 schede da un lato 5000 dall'altro quindi voglio dire c'è una disattenzione verso la politica probabilmente è colpa dei partiti anche delle forze politiche perché parlare di partiti in questa fase non è che bisogna parlare proprio di partiti partiti veri e propri proprio come quello che è il concetto di partito degli anni 70-80 insomma è tutto molto cambiato probabilmente le persone sono lontane dalla politica lontane dai partiti e vanno a votare per il singolo per le persone io ti offro un altro suggerimento uno spunto e te lo dico dieci giorni prima io vorrei vedere la percentuale dei votanti che c'è stata adesso alle comunali in Calabria sarà stato del 50% non lo so più o meno sì è stato sotto sì sotto andiamo a vedere poi in quei tre comuni basta vedere quei tre comuni Montalto Giugiatore e Vibo Valenza andiamo a vedere il dato e poi lo metteremo a confronto fra dieci giorni con il dato al ballottaggio io credo che sarà di molto inferiore il dato del ballottaggio perché perché io vado a votare non l'idea vado a votare il mio amico alle elezioni comunali vado a votare la persona qua lavori insieme vado a votare il vicino di casa vado a votare il parente e ci vado poi a meno che l'amico non ritorna a chiedermi perché magari entra in maggioranza o entra in minoranza oppure entra solo se si trova lì e magari se vince il suo candidato a sindaco allora io vado a votare diversamente se io ho votato solo perché mi è stato chiesto all'amico dal parente eccetera eccetera io non ritorno a votare 15 giorni dopo però non solo secondo me influisce anche il fatto che durante il ballottaggio si sa che quelli sono i voti non c'è la soglia di sbarramento cioè si vince anche per un voto soltanto però dovrebbe essere secondo me c'è sempre questa discesa durante il ballottaggio secondo me sono le liste che non traiono più perché là è la lista che ti traiene e ti porta al voto diversamente lì c'è solamente il candidato a sindaco quante volte è accaduto ed è accaduto davvero tante volte che al primo turno al primo turno ha preso un tot di voti un candidato magari ha preso il 48-49% e poi esce e al secondo turno e allo sfidante ha preso il 38-39 quindi 10 punti percentuali ok si va avanti partendo da questo lato vado a vincere no alla fine ha vinto quello che aveva preso il 38-39 perché? perché evidentemente in quel caso erano le liste che trainavano il candidato poi le liste molte e molti candidati che sono tagliati fuori dai giochi non si impegnano più e allora lì un uno contro uno o magari insomma un gruppo contro un gruppo e capirai che possono cambiare gli equilibri è un po' difficile però ritornando all'europea mi piace dire che sì hanno avuto scarso appeal tra molti ma i giovani hanno votato di più hanno di più il concetto leggendo alcuni articoli hanno più il concetto di Europa anche perché in base ai voti e alle liste che hanno prediletto le persone più giovani c'è per sopra il concetto di no war cioè di fermare la guerra quindi c'è un'indicazione precisa che arriva dai ragazzi sempre più attenti anche al cambiamento climatico e poi caro Paolo nei titoli del Tg oltre alla sanità ma di che cosa non può mancare cosa non può mancare nel nostro Tg ovviamente è lo sport abbiamo capito che Vivarini noi sto cercando un'altra cosa da far vedere proprio in riferimento a quello che tu dicevi è multitasking no non è che multitasking perché allora abbiamo parlato della nostra maratona elettorale tu hai fatto riferimento ai giovani sì hanno votato soprattutto alleanza sinistra e verdi allora in questo caso non sono proprio i giovani ma stiamo parlando di un trend specifico vediamo se lo riesco a trovare se lo riesco a trovare è questo il dato sì ecco il voto dei fuorisede questa è una statistica ricordo che te l'ho passato io una statistica che è stata gentilmente offerta Alessian Tonucci a suo tempo che spiegava proprio quello che era questo trend cioè fra i giovani che sono in fuorisede di fatto hanno votato e soprattutto il AVS cioè alleanza verde e sinistra è partito democratico e poi a scalare tutti quanti gli altri partiti questa era un po' una delle statistiche che è venuta fuori nel frattempo è passato il direttore a salvare il direttore viene ogni tanto a dare un'occhiata a dirigere ad accertarsi a dare le giuste indicazioni ad accertarsi a dare l'input e dicevo abbiamo capito che Vivarini ha lasciato la panchina c'è questo addio insomma non così tragico oppure lo è no vabbè è un addio sentito ovviamente è un addio però insomma è un addio che arriva dopo un ciclo importante un ciclo di tre anni Catanzari in Serie C ha prima non vinto stravinto il campionato di Serie C è arrivato nei playoff da quinta forza del campionato ha superato il primo turno è arrivato in semifinale contro una squadra forte come la Cremonese poi non ha centrato la Cremonese la promozione in Serie A ma ne sale solo una e il Venezia è un'altra grande squadra ma io penso che insomma a un certo punto se siano seduti il Presidente la proprietà con Vivarini evidentemente Vivarini forse cerca un'altra sfida però insomma io penso che abbia fatto grandi cose è giusto così credo che ci siano state divergenze nei programmi a questo punto Vivarini si accomoderà da un'altra panchina perché io non credo che gli manchino richieste frosinone su tutto no vabbè però c'è anche ancora da sciogliere il nodo Tutino ormai sono diventata io stavo sperando che tu non mi facessi questa domanda io ti rispondo con questo con questo titolo mi devo girare dico perché sono mio aspetta che te lo faccio vedere meglio Tutino e fibrillazione Tino Viale e fibrillazione perché di fatto scadono in queste ore le i termini per il riscatto del giocatore non è dato ancora sapere cosa accadrà ogni possibilità è aperta così come è aperta ogni possibilità anche sulla permanenza o meno di William Viale il tecnico del Cosenza sta dialogando con la nuova dirigenza con Ursine del Vecchio e credo che anche del Vecchio intanto si stia guardando intorno per cercare di non farsi trovare impreparato perché stia facendo i famosi sondaggi che si fanno sempre perché eventualmente non si dovesse trovare l'accordo per proseguire questo contratto con Viali che ricordiamo ancora un contratto comunque fino a giugno del 2025 e allora in quel caso non ci si può permettere a metà giugno di non farsi trovare pronti deve esserci già qualche contatto vedremo perché ovviamente io credo da quello che trapela che la prima scelta comunque resta William Viale e poi vedremo la prima scelta resta Tutino nel cuore dei tifosi sì nel cuore di tutti sì vedremo se anche nelle casse del Cosenza Calcio ci starà questa scelta a proposito di Tutino una notizia curiosa che ho trovato su Instagram e sui social sai che hanno messo il countdown per vedere i tifosi del Cosenza quante ore mancano per la decisione quindi i minuti corrono veloci e quindi adesso bisogna che la decisione arrivi altrimenti non si va da nessuna parte il mondo social insomma consideriamolo sì assolutamente sì però sai qual è il problema il problema è che si può anche riscattare oggi Tutino quello è il massimo il caldo laddove a un certo punto se non è stato riscattato ciao Gennaro è stato bello rivederti buona fortuna insomma invece adesso ti porto a Roma sai che le senatrici hanno occupato l'aula del senato c'è una manifestazione in corso perché hanno si stanno opponendo al disegno delle leggi sul premierato e siccome insomma le forze dell'ordine non possono non possono mettere non possono toccare le donne quindi loro stanno agendo in tutta tranquillità e facendo sentire il loro forte no ecco qua botte alla camera riprendono i lavori e si ripete il cofione fuori i fascisti dal Parlamento e beh ieri hanno dato un bello spettacolo e l'home page ieri sull'ultima differenziata c'è stato qualche problemino diciamo così fuori i fascisti dal Parlamento Schlein prepara contro Moss le senatrici occupano l'aula contro il premierato in questo caso e poi i commessi non possono toccarle quindi esatto e qui invece abbiamo quello che è accaduto ieri qualche frame rispetto a quanto è accaduto ieri non sono assolutamente belle scene questo ormai lo sappiamo purtroppo non è neanche la prima volta che capita no no assolutamente c'è anche in atto una polemica del PD perché non è stato aggiunto nel verbale che si trattate di aggressione hanno usato dei termini diversi però mi piace sottolineare anche la giornata di domani una giornata importante che riguarda l'Italia e la Calabria cioè domani è la giornata mondiale e quindi anche il mondo dei donatori di sangue uno degli elementi e degli argomenti più sensibili per la cittadinanza attiva per la tutela della salute il diritto della salute dai dati che sono emersi i donatori di plasma e sangue sono aumentati sai che è aumentato soprattutto quale fascia è aumentata soprattutto? non lo so dimmi tu i giovani ah beh questa è una buona notizia è una ottima notizia l'attività di sensibilizzazione ha fatto bene ovviamente ma dicevano che da questo report che è stato fatto in realtà la leva è sicuramente la familiarità quindi gli esempi che danno i genitori mamma e papà oppure i parenti vicino ma anche aver vissuto delle situazioni drammatiche all'interno proprio dei contesti familiari dei contesti scolastici magari amici che si sono ammalati e che avevano bisogno di sacche di plasma e di sangue e anche il passaparola ma c'è anche un elemento che fa riflettere alcuni donano anche per sentirsi importanti quindi per una sorta di autostima e ben venga questo tipo di autostima e poi un altro un po' le emulazioni ieri sera non so chi ha visto le due puntate di Alfredo Rampi un po' quello che ha fatto la mamma poi ha aperto il centro da lì è venuta fuori la protezione civile insomma ha saputo la storia però è quello quando tu ci passi in prima persona poi ti rendi conto delle necessità c'è anche una grande sensibilizzazione del tema nelle scuole e anche delle associazioni in piazza quindi tu sei donatore? sì sì vedi Paolo applauso a Paolo non c'entra niente chi può io infatti non posso però applauso e grazie a tutti quelli che donano il sangue poi c'è questo report di emergency però lo devo leggere perché nel 2023 sono state erogate più di 2100 prestazioni sanitarie sociosanitarie in Calabria da emergency soprattutto nella piana di gioia e quindi riguarda in particolare i migranti e in particolare ancora la stagione estiva cioè la stagione oppure la stagione della raccolta prestazioni gratuite su cui si è focalizzata questa importante ONG e questa importante Ollus emergency e con questo io chiuderei salirei in redazione io invece salgo sui quotidiani online grazie Alessia per essere stata con noi ultimi istanti ovviamente per dare un'occhiata ai quotidiani online andiamo al vertice dei grandi così come viene definito da Repubblica.it Sullivan Biden parlerà di diritto all'aborto con Meloni sui diritti non cede G7 Meloni mentre attende Biden scatta selfie con giornalista autografi devo taggare tutti insomma un po' anche di contone rispetto a quanto sta accadendo e poi vabbè la questione di Chiara Ferragni ci interessa poco abbiamo già visto ciò che è accaduto alla Camera andiamo avanti con l'Atletica l'altra faccia delle medaglie grande spettacolo per poco pubblico ma è sui prezzi ci sono stati degli errori un po' di polemiche su evidenti prezzi per gli europei di Atletica Leggera il talento del Guastafeste non salva Renzi dalla flop eppure gli ultra si ribellano ancora temi e protagonisti del mondo politico a proposito di altri quotidiani online andiamo sul messaggero punto it parte il G7 Meloni accogli i leader del mondo fonti Unione Europea raggiunto accordo sugli asset russi parla la Casa Bianca aborto Biden non cede sui diritti un'intervista poi a quello che possiamo definire un ex protagonista della politica italiana Gianfranco Fini a suo tempo alleanza nazionale Meloni premiata per il buon lavoro fatto l'Unione Europea i nodi sono venuti al pettine ancora causa alla Camera l'opposizione cantano bella ciao e svento nel tricolore seduta sospesa anche in Senato e poi Antonella Clerici operata d'urgenza il post su Instagram risonanza poi il ricovero è stato uno tsunami speriamo di vederla presto anche in tv IMS pensione aumenta a luglio grazie alla quattordicesima chi spetta e come si calcola taccono i nuovi interventi nuovo intervento a Torino un calvario infinito dice l'ex portiere operazione delicata spiega il figlio anche qui speriamo appunto di avere presto buone notizie Mosca Nato pronta a uno scontro con la Russia fino a dove si può spingere Kiev con le armi statunitensi e Putin riprende l'offensivo a tutte le zone nel mirino potenza il consigliere comune Aleangelo Chiorazzo colpito da un orisma cerebrale purtroppo anche qui una brutta notizia bene cambiamo adesso testata andiamo velocemente sul mattino punto it blitz al comune di Caserta arrestati assessori dirigenti e dipendenti e poi ancora abusivismo in zona sismica denunciato assessore a Ischia picchiato al parcheggiatore abusivo chiedeva 50 euro un po' di notizie che arrivano qui dalla Campania Cristina le parole della famiglia presto a emergere la verità l'avvocato non riesco a darmi pace e poi le notizie sul G7 che abbiamo già raccontato attraverso altre testate web chiudiamo con le notizie calabresi qui cosenza.it cosenza dopo cinque anni dal crollo di un masso riapre il traffico a Corso Vittorio Emanuele siamo nella zona di Porta Piana un'arteria importante appunto quella che è stata riaperta al traffico oggi a Cosenza la poesia giapponese rompa Camilla Tlausilano domenica giornata dedicata allo AICU e poi elezioni vincono tutte e non perde nessuno la guerra politica fra destra e sinistra in Calabria inchiesta Ducale Falcomatà il ballottaggio e la richiesta a Barillà mi serve una grande mano un po' di dettagli che arrivano dall'inchiesta Ducale che stiamo raccontando attraverso le pagine dei giornali attraverso i nostri servizi e continuiamo appunto a raccontare come sempre bene per oggi ci fermiamo qui ovviamente io vado via voi restate perché c'è il nostro telegiornale come sempre fra 5 minuti più o meno alle 14.30 grazie e buona giornata a tutti grazie a tutti